SABATO 3 Siamo stati a Lucca per la 52esima edizione di Lucca Comics & Games, il più importante festival europeo nel suo genere, che ha registrato quest'anno oltre 250.000 presenze. Ne abbiamo approfittato per curiosare tra i padiglioni e intervistare alcuni cosplayer. Io vengo da Modena e vengo qua da Lucca dal 2011, sono qua. Ho fatto due o tre crosspray diversi e sono un paio di anni che porto Megara. Lei invece viene da? Genova! E sono, credo, cinque o sei anni che ormai vengo a Lucca e spesso porto personaggi cattivi perché sono belle. Io interpreto Kaguya di Naruto e lui è il Susano di Madara, sempre di Naruto, che è un manga giapponese. Sono toscano, anche se ora vivo a Roma e vengo a Lucca da 11 anni ormai. Io vengo da Marina di Massa e sono ben dieci anni che faccio cosplay. Mi chiamo Mauro, sono cosplay dal 2009, oggi interpreto Magneto, versione di Fastbender da giorni di un futuro passato. E niente, ogni anno è sempre meglio qua a Lucca. Grazie a tutti. Grazie e al prossimo anno.